Proseguono le vaccinazioni in Val Pescara, siamo a Scafa con il primo cittadino Maurizio Giancola. Tanti vaccini sono stati fatti negli ultimi giorni anche nel vostro centro, tanti ne verranno fatti nei prossimi giorni. Qual è la situazione? Noi abbiamo già provveduto a vaccinare tutti gli ultraottantenni, quindi abbiamo vaccinato oltre 300 persone, abbiamo provveduto anche all'effettuare il richiamo per il primo nucleo e il prossimo 10 di aprile, quindi sabato dopo Pasqua, provvederemo a chiudere il cerchio degli ultraottantenni con il secondo richiamo per il secondo gruppo. Successivamente partiranno le vaccinazioni come da istruzioni della ASR per le altre fasce di età. Ovviamente il personale scolastico è stato vaccinato direttamente a Pescara attraverso i percorsi pensati e ideati dal Ministero. Sicuramente il 6 di aprile, se i dati sono nella tendenza attuale, ci consentiranno di riaprire le scuole in totale sicurezza. Sindaco, vaccinazioni, tamponi, tutto quello che è stato fatto in questi 14 mesi è stato coordinato da un comitato tecnico scientifico che voi avevate istituito nel mese di febbraio del 2020. Esattamente, ancora prima che la pandemia raggiungesse i livelli di guardia che abbiamo vissuto, noi avevamo istituito presso il nostro comune un comitato tecnico scientifico alla presenza ovviamente dei comandanti della Polizia Municipale, del comandante della Stazione dei Carabinieri, dell'Avis, della Misericordia e della Cooperativa Manitese che gestisce le nostre politiche sociali, la dirigente scolastica e poi ovviamente le figure istituzionali, anche un medico presente all'interno del nostro Consiglio Comunale. Noi abbiamo iniziato a novembre del 2020, quindi dell'anno scorso, e abbiamo effettuato quattro sessioni di tamponi rapidi per testare la cittadinanza. Nella prima fase l'iniziativa è stata del Comune di Scafa in autonomia, abbiamo acquistato un primo lotto dei nuovi tamponi antigenici che erano appena andati in commercio nel mese di ottobre. In quella prima fase abbiamo organizzato quattro giornate con 310 test e oggi abbiamo una situazione buona, abbiamo solo circa 16 positivi. Questo ovviamente non è il frutto del caso, bensì anche di una certa azione di prevenzione che è stata fatta sul territorio.